Sbarcata anche in Calabria questa campagna nazionale, campagna Cercasi Schiavo, che è una campagna che ha il duplice obiettivo. Da un lato cercare di combattere le misure di sfruttamento, possiamo dire chiaramente di sfruttamento del lavoro stagionale, soprattutto in determinati settori, quali sono quelli della ristorazione e quelli del turismo più in generale, e dall'altro anche da un punto di vista più simbolico cercare di decostruire una narrazione che riteniamo fittizia, se non totalmente di parte, che è quella che vede datori di lavoro tutti illuminati, tutte persone che non vedono l'ora di dare 1500-1600 euro al mese per un contratto standard normale, salvo poi dire di non riuscire a trovare queste persone per colpo del reddito di cittadinanza. Noi che bene o male abbiamo una piccola grande esperienza secondo delle persone nel settore, riteniamo fallaci queste dichiarazioni, non fosse altro perché le persone sono a spasso, tutto il confronto tra quanto è l'emolumento del reddito di cittadinanza e quanto sono questi stimenti dichiarati, c'è una differenza abbastanza grossa, quindi chiunque avrebbe voglia di guadagnare di più, soprattutto se è una famiglia a carico, e allo stesso tempo lo riteniamo un primo testello di una narrazione ancora più grande, che cerca di colpire la povertà, le facce più deboli popolazioni, tant'è che anche le dichiarazioni sul salario minimo che abbiamo visto vanno in questa direzione. Per questo noi da un lato cerchiamo di radunare, cerchiamo anche di raccogliere le testimonianze dei vari stagionali, sono già arrivate a BZF sia quest'anno ma soprattutto negli anni passati, quando possiamo avere un dato comunque su tutta la stagione, e allo stesso tempo comunque di sollevare l'attenzione su quello che è comunque uno dei testi dolenti, perché nonostante si discuta giustamente sul fatto che la chiave di volta per uno sviluppo armonico della nostra regione consiste nello sviluppo del turismo e della balneazione, dall'altro vediamo che di fronte a uno sviluppo dei servizi offerti, e non c'è lo stesso sviluppo nelle prestazioni ai dipendenti, gli stipendi restano quelli che sono, le condizioni di lavoro si fanno di anno in anno più dure, anche per via delle temperature e del fattore climatico che non aiuta certo a lavorare in questi momenti. Le cose più diffuse sono dal mancato rispetto degli accordi in bussa paga, al fatto che come spesso succede un campo come il nostro è quello del poi te li do fuori bussa, è uno di quei discorsi che, tocca dirlo, possiamo dire fuori denti, è una cosa abbastanza diffusa nel campo del lavoro estivo, quando poi questo fuori bussa non è mai definito in sede di contrattazione, ci sono spesso e volentieri, per non dire sempre, delle brutte sorprese quando poi arriva effettivamente questo fuori bussa a settembre, che poi magari o ti fanno davvero scapicolare per prendere quello che è il tuo legittimo stipendio, arrivi fino a ottobre, novembre, se non è natale del tutto, oppure ti li danno a settembre proprio in una bussa nascosta, non sai quanto era questa parte grigia, che potremmo anche definire di stipendio nero, che poi quando lo apri resti abbastanza deluso. Questo è uno, ma abbiamo avuto segnalazioni di più, di aria natura, abbiamo avuto anche dipendenti minacciati dai proprietari o comunque da persone vicine ai proprietari, minacciati anche con armi, nell'anno passato, sono state situazioni che sono ancora, sono state analizzate, le stanno analizzando, e diciamo che la casistica è varia. Il discorso resta sempre quello, ad uno sviluppo della balneazione, ad uno sviluppo comunque del turismo, in Calambria non corrisponde uno sviluppo o un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Sì, noi siamo all'ispettore del lavoro perché chiediamo un confronto con le strutture debita, insomma, per cercare di capire quali sono le strategie che si possono adottare, se si può collaborare in maniera comune, per capire qualora dovessero arrivare queste segnalazioni, loro come intendono muoversi o comunque come intendono fare loro per cercare di debellare questa piaga, perché comunque penso sia sotto gli occhi di tutti che al di là di una narrazione, che trova lo spazio che trovi, insomma, sugli organi di stampa, c'è un paese reale che parla comunque di lavori, di lavoratori sfruttati, di lavoratori sottopagati in questo settore, in questo settore specifico. Oggi siamo venuti qui a portare avanti la nostra campagna Cercasi Schiavi, che farà tappa in tutte le località turistiche calabresi e finirà a fine agosto con una manifestazione a Pizzo. Siamo venuti all'ispettorato perché noi stiamo affrontando una serie di problemi, uno di questi è il fatto dell'inefficienza e della passività delle istituzioni. Ci rendiamo conto dei problemi di personale che all'ispettorato del lavoro, la funzione pubblica dovrebbe fare ulteriori assunzioni in questo ente, anche perché ora c'è una graduatoria in essere, ma purtroppo riceviamo anche delle testimonianze da parte dei lavoratori che sostengono che le istituzioni, tra cui l'ispettorato, non svolgono il loro lavoro neanche nel momento in cui vedono delle ingiustizie in essere. Questo purtroppo è un problema che non possiamo ignorare, per questo andiamo a discuterne con gli ispettori del lavoro per trovare una soluzione. In generale ci sono almeno due serie di problemi. Innanzitutto anche i contratti regolari, CCNL, sono già essi stessi degradanti e a favore del padronato. Infatti i contratti stagionali, come saprete, non hanno un meccanismo che obbliga il datore di lavoro alla stabilizzazione, al contrario dei contratti a tempo determinato. E non c'è anche il limite per le aziende di assunzioni a contratto a termine. Per questo anche i minimi sindacali sono molto bassi rispetto al normale. Oltre questo c'è da dire che, nonostante siano molto peggiorativi rispetto agli altri tipi di contratto, per via della grande ricattabilità dei lavoratori stagionali, neanche questi contratti stessi vengono mai rispettati. Noi abbiamo fatto un sondaggio interno nei nostri gruppi di lavoratori e vediamo che almeno due lavoratori su tre sostengono di lavorare più ore rispetto a quelle che hanno da contratto. L'80% dei lavoratori, almeno, sostiene di venire pagato meno del minimo sindacale, che già abbiamo detto che è basso, e addirittura c'è un 20% di lavoratori che sostiene di aver avuto degli infortuni senza essere assicurato. E' un 15% che, come ho già accennato, ha questa diffidenza verso le istituzioni di controllo stesse per degli episodi a cui ha assistito. Siamo qui fondamentalmente per chiedere una cosa abbastanza banale. Se la Calabria è una regione a vocazione turistica, lo può essere solo ed esclusivamente se rispetto il diritto al lavoro delle persone che nel settore turistico ci lavorano. Purtroppo il 70-80% dei contratti che girano all'interno del settore è in nero o in grigio. Le ore lavorate sono molte di più di quelle lì dichiarate in busta paga e, spesso e volentieri, addirittura la busta paga non esiste proprio. Chiaramente questo qui è una competenza diretta dell'Ispettorato del Lavoro e siamo qui per chiedere un incontro e disporre a loro la situazione. Crediamo che sia fondamentale avere più controlli sui luoghi del lavoro, anche per aumentare le sicurezze sul luogo del lavoro. Siamo in un Paese che fa tre vittime ogni giorno per quanto riguarda il mondo del lavoro. Anche per questo chiediamo, e credo che su questo l'Ispettorato del Lavoro sia favorevole con la nostra battaglia che vengano ad essere scorse le gradatorie interne all'Ispettorato del Lavoro. Ci sono delle gradatorie già pronte, potrebbero assumere un nuovo personale. Il personale che c'è non è assolutamente sufficiente. Assumere altre persone significa tutelare i lavoratori, tutelare il diritto del lavoro e dare la possibilità, magari anche a calabresi, che sono all'interno di quelle gradatorie, di trovare un posto di lavoro. Grazie a tutti.